Buongiorno a tutti, sono Barbato Davide, responsabile commerciale della Robotunizia Italia. Siamo un gruppo austriaco di 250 persone. Siamo partiti negli anni 90 come costruttori di macchine speciali. Poi abbiamo visto che nel campo dell'automazione c'era bisogno di avere un sistema flessibile, modificabile e resistente come l'acciaio saldato. Questo è l'unico sistema su base profilo d'alluminio al mondo modificabile. Io posso sempre e comunque modificare gli interassi del mio sistema ma riesco ad ottenere una resistenza pari all'acciaio saldato. Questo è l'unico sistema, scusate se mi ripeto, sistema in profilo d'alluminio sempre modificabile. Avendo un concetto di polifunzionalità, ogni profilo viene ripetuta la cava in modo tale da avere pochi componenti polifunzionali. Vi mostro questo sistema in questo modo. Da un semplice angolare, il quale mi permette di essere perfettamente in asse, per poterlo sfruttare anche con profili con gamma 40, posso tranquillamente, come vedete non sono più in asse, posso girare questo componente e sono perfettamente in asse con tutti i profili. Questo è il concetto che ogni componente può essere sfruttato in tutto il sistema Robot Unis. Robot Unis consegna in soli tre giorni kit come dal semplice banco alla struttura per l'automazione più complessa. Nastri di trasporto just in time, vuol dire data una larghezza, una lunghezza, un carico, in una settimana vi diamo il nastro nella vostra azienda. Chiavi in mano, protezioni, protezioni Lexan in rete, antisfondamento. Questa è stata una richiesta data da Audi e KUKA per resistere agli sforzi o alle eventuali spinte date da un robot. Robot Unis si chiama così perché sta attorno al mondo dei robot. Ciao.